ooooh oh ma ne ti dai il cazzo te ma ne va ti dai il cazzo te ooooh ooooh oddio gaming ma dov'è il monitor? anche se non me lo chiederà mai nessuno ma vabbè è rotto, si mi è arrivato rotto e deve arrivarmi quello nuovo mi toccherà mettere quello vecchio ma porca troia pss ragazzi st'intro fa cagare ho perso il file dell'altra intro e devo usare questa, non ce la faccio più devo unboxare perchè io non l'ho ancora usata stasera io voglio praticamente lo faccio per voi eccoci qua finalmente, prima cosa scusate l'audio è che il trapiede il cavalletto è praticamente appoggiato sul microfono e questo è il massimo non comprerò, mi sto aggiornando per tutte le cose nuove e non ce la faccio più, devo unboxare questa cazzo di tastiera io inizio voi fate qualche cazzo che volete qua è troppo bello come funziona era già aperta però se non si ha oh che bello è abbiamo questo cosino che ovviamente è la nostra tastiera ancora lo metto qua poi abbiamo ovviamente il librettino master keys pro L ah che figata abbiamo le macro tutte le cose, livelli di colorazione tutte le cose, tutto RGB insomma questa tastiera come possiamo anche notare RGB è scritto qua sotto dentro qua abbiamo lo strumentino per togliere i tasti meccanici ovviamente e il cavo placcato in oro molto molto bello che si può staccare guardate è anche molto comodo per ad esempio collegare un normalissimo connettore micro SD micro SD ma che cazzo sto dicendo micro USB ok USB non SD che cazzo c'è e poi abbiamo lo strumentino vabbè come vi ho fatto vedere metti a fuoco metti a fuoco ma va a cargare lo strumentino che ci permette di togliere i tastini meccanici ora andiamo a aprire quel bellissimo coso lì eccola qua ragazzi attenzione al momento della verità oh eccola eccola qua con tutta la sua bellezza ora ovviamente è spenta mi sembra anche ovvio però quando tocchiamo i tasti madonna non avete idea guarda meccanici tutti bellissimi mi piace la barra spaziatrice non ne parliamo ovviamente è rumorosa come tutte le tastiere ma ora vediamo com'è fatta all'interno un tasto ok adesso toglierò questo tasto con lo strumentino che ci hanno dato dentro allora mi sembra che dovrebbe fare così madonna perfetto ho rotto la tastina no sto scherzando questo è un cherry mx brown si può utilizzare per scrivere per giocare e per fare tutte le cose insomma è più adatto ai miei usi poi ci sono gli altri mx red che sono più per giocare e gli altri appositi per i blu mi sembra per scrivere ma adesso colleghiamo la tastiera per vedere che cosa si può fare al pc perfetto adesso vado a collegare e un'altra cosa vedete questa linea ora vi faccio vedere subito a che cosa serve insomma perfetto adesso io posso farlo uscire il filo davanti semplicemente così se no si può far fare questo è un perfetto cable management vedete e il cavo uscirà a destra ovviamente dovete schiacciarlo bene ora io lo metto nella mia scrivania vi faccio vedere un po' come viene ragazzi il primo attacco si è acceso solo questo qua io non penso sia rossi tutti gli altri insieme è il momento della verità si è spento fantastico no sarà il caps lock vedete si attivano con i leddini fighissimi mi piacciono un casino ovviamente serve il software della Cooler Master adesso vado subito a installarlo perché sennò non succede un cazzo qua ok ragazzi il momento scrittura Cooler Master Pro L software è bellissima è bellissima usiamo l'altro mouse ok ciao anzi no ho partito il mio video mentre schiacciavo è bellissima da usare perché appena apriamo il tasto questo va non dobbiamo andare fino in fondo è una sensazione veramente fantastica dunque sono andato a cercare il software adesso lo scarico subito e vi faccio vedere ok ragazzi oggi qua il software finalmente è pieno di cose abbiamo tantissime personalizzazioni già fatte ora andiamo a vederle una a una e metto il software nell'angolino così capiamo bene come funziona il software ragazzi sono uscito ad ammalarmi in un giorno non so se potete sentire però il video lo voglio fare lo stesso allora abbiamo statico ovviamente normalissimo che bello che è mi piace un casino e qua a destra possiamo scegliere il colore non so mettiamo un bellissimo arancione così mi supporto il canale così perfetto questo è il mio canale qua adesso scriviamo Gaming Alex ma questa è una cosa molto molto base io voglio farvi vedere delle cose bellissime dunque continuate a vedere il video perché c'è una cosa veramente fantastica color wave questa è una delle più comuni insomma è l'onda semplicemente di colori che molto di bell'effetto soprattutto da natale se non avete l'albero potete usare questa funzione davvero eh lo mettete bello qua e fate così possiamo scegliere sinistra verso destra vedete che sta andando qua sinistra verso destra destra verso sinistra retro verso fronte e fronte verso retro aspetta poi abbiamo la modalità cross ecco già adesso abbiamo delle cose belle noi premiamo il tasto e fa questo effetto croce e possiamo scegliere ovviamente il colore diciamo verde quando premiamo diventa verde poi abbiamo la modalità riposo sia quando la tastiera è spinta ad esempio possiamo mettere modalità riposo rosso quando premiamo diventa verde bellissima personalizzazione secondo me guardate e poi se non ci piace possiamo ripristinare tutto facendo ripristina si e torna tutto di fabbrica poi abbiamo tasto unico normalissimo premiamo un tasto si illumina questo anche molto basic la stessa cosa riposo mettiamo rosso quando premiamo diventa di un altro colore personalizzazione bellissimo questa cosa è bellissima ogni singolo tasto possiamo scegliere un suo colore personalizzato abbiamo anche tipo un editor praticamente perché guardate noi possiamo selezionare tutti tutta questa parte in sezione vedete tutti i blu diventano metto un colore nero dobbiamo metterci tra le fessure possiamo chiamarle così e possiamo creare questo quadrato che possono selezionare possiamo scegliere un colore rosso ad esempio e non so a fare scrivere quello che vogliamo ogni singolo tasto possiamo scegliere ad esempio gaming anzi no ciao dai non si riesce perché ovviamente è una tastiera a scrivere però ovviamente qua non si capirà niente perché abbiamo anche i led sotto insomma è difficile capire con il tasto sinistro lo ricorriamo con il tasto destro lo cancelliamo vedete abbiamo anche i profili che si possono cambiare con questi tasti 1 2 3 4 abbiamo l'effetto stella che fa questo effettino così che sia proprio lucide natale completamente il cielo è praticamente alla modalità riposo come prima possiamo mettere il cielo azzurro e le stelle bianche non si capirà mai ma non si riesce a capire vedete che un po' di effettino lo fa dai poi abbiamo caduta pioggia semplicemente fa questo altro effetto questo è molto carino come al solito possiamo scegliere il cielo quando è spento e la pioggia il colore ciclo colori normalissimo come anche ho sul mio mouse della Razer vedete che fa il ciclo colori ah una cosa che non vi ho detto qua possiamo scegliere la velocità ad esempio vedete adesso com'è veloce se noi mettiamo a manetta questo sarà molto più veloce il ciclo insomma stessa cosa per tutte le altre se ad esempio mettiamo le stelle insomma va molto più veloce l'animazione si può chiamare lampeggiamento lento già da come possiamo intuire fa questo effetto sempre a luce di natale onda questo è uno dei miei preferiti quando ne premiamo fa questo effetto bellissimo su tutta la tastiera del colore che vogliamo e possiamo anche scegliere un colore casuale dunque va a caso un colore a caso completamente guardate che bello se scriviamo veloce non si capirà un cazzo praticamente multistrato non ho capito cos'è mettiamo insieme tante cose però non si capisce niente e non ha senso ragazzi se siete pronti alla cosa più bella di questo video abbiamo snake guardate non è che dico che è fin cioè non è è snake guardate guardate vedete il cosino rosso sono io sto giocando a snake ragazzi sto giocando a snake su una tastiera sto giocando a snake su una tastiera ma siamo seri guardate lo sto guidando io ragazzi eh stiamo giocando a snake insomma fantastica questa funzione andiamo avanti poi abbiamo come ultimo lo stato del sistema ossia equalizzatore mettiamo una canzone vi faccio subito capire insomma siete pronti? questa cosa bellissima non so se mi sentirete non so se mi sentite però una cosa bellissima e poi abbiamo caricamento cpu che va in base alla cpu lo sforzo anche se non ho capito molto bene e poi ovviamente abbiamo off ok ragazzi spero vi sia piaciuto questa breve recensione possiamo anche scaricare ogni singolo template della gente da un sito e si possono installare tutte cose personalizzate dagli altri insomma è pieno di cose questo software comunque spero vi sia piaciuto davvero il video e la recensione e io vi saluto ragazzi grazie per aver visto il video ciao ragazzi non l'ho stoppata ok